E' il che è? non lo vedo più è sotto, è poche sotto è però già qua sotto è proprio sotto sembra bello e magari non è più guardate il nostro pulizzo non fatti almeno vedere se stessi guardi sono lì prendi la fila se stessi guardi sono lì mi stanno andando un po' però adesso bisogna portare quella camera l'antinazzo che lo prendiamo al centro se stessi guardi sono lì allora non ho filmato niente adesso sta filmando è vero, per adesso questo mi sembrava strano a me qui è la tua bestione ho paura dello scotto ancora vado non so non so non so non so vi prego guarda te guarda te niente da fare a mo' guarda te guarda te guarda te ti aspetta te guarda te godi che vo' guarda te ok la puntata è lì in quella zona lì da del corso va bene ma dove vai? no va bene che l'è bene no però no ma che forza che c'è aspetta che te lo porto lì perché sennò non vediamo la scena adesso c'è da ridere sì di là non ce la fai ancora dove hai fatto ti seguo con l'altra allora aspetta che vengo io dai no di qui non puoi salire se ero da solo lo mollavo lì io cazzo aspetta che vado a prendere i guanti francesco ti aiuto aspetta ho melpica guarda le gambe la dinamica senti non stare a portarlo lasciamolo qua vado a prendere vado a prendere il coso da appoggiarlo adesso vado dentro io il pesce guarda no ma questo qui puoi anche non riprenderlo oh come la porta più bella ho potuto portarlo su no aspetta aspetta cazzo mi sono dimenticato aia aia mi sta mangiando ragazzi eccolo che sta andando ciao alla prossima e ti vado via il culo ah 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 sei sicuro di voler venire su da lì va 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 che si fa il bidet lì va va per farmi il bidet devo lavarmi la faccia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, si vede anche un pirrore nello schermo. Sei sicuro? In zona Cesarini. Il cuore della bubona si smentisce mai. Non è come quello là ma non è piccolo. Il cuore della bubona. Il cuore della bubona. Il cuore della bubona. Il cuore della bubona. Tu sei stanco? Sì, un bel strato. Adesso... No, non dirmi che è andato sotto qualcosa. No, sta andando. Ragazzi il balu mi sta aiutando. E' bello che è questo. Oh, è bello che è questo. Un'altra bubona. E' un altro quasi come quello là. se non come quello là. E adesso... è un'altra bubona. 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 Grazie a tutti Ecco se è lungo mamma mia Senti i rispettatori C'ho il metro là però questo qui è ancora più lungo dell'altro Eh? Eh? Ok Facciala Puliscilo un po' Aia se ne sta già andando? Sì sì Non riesco a andare Eh non so dove sono tanti gli stivali Un metro e 76 Non vi so dire il peso Eccolo che va Grazie ragazzo Di qualcosa ma non col culo Che giornata Che buco di culo Ciao ragazzi vi saluto anch'io Giornata nel corniciare Col balupa Ciao a tutti Alla prossima Vam? Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima